Salve ragazzi io sono Fablinker e oggi siamo qua con un video su Red Dead Redemption 2 per fare la missione in nuovo sud di Dutch Vanderlinde in cui Dutch ha bisogno di parlarci vedremo un po' di cosa vorrà parlarci al momento adesso che ci parla dell'accampamento, delle missioni, vediamo intanto andiamo è vero, passiamo qui, mio padre è morto in un campo in Pennsylvania, combattendo questo lato, non ti ti dico così? molte volte, vedo che ti ti preoccupi, Arthur mi preoccupi, abbiamo perduto l'argomento lì, abbiamo il sogno, Arthur, stiamo cercando di rafforzare la società in un modo migliore, migliore, migliore via, fuori, in un certo modo, ci saranno causati siamo fiii, in un mondo che non vuole noi non più siamo dritti in un mondo più siamo dritti in un mondo molto più di fatti, adesso te lo darò, ma vabbè siamo un paolo sembra un po' arrabbiato, non so perché Ma è molto arrabbiato Dice che la nostra concezione Di quello che abbiamo detto È sbagliata Ok Però alla fine è vero Abbiamo perso molti uomini Così via discorrendo Quindi non si può Far finta di niente Dicendo che Lo facciamo per rendere il mondo Un posto migliore Comunque Da quello che ho capito Dobbiamo andare a un ruscello Stai impazzendo Ho questa idea Ma perché mio cavallo è qua? Ma perché è qua il mio cavallo Che l'avevo legato io? Ma che cavolo Ma questo non l'ho capita Questa non l'ho capita per niente Comunque Dove andare a pescare Ma per me c'è cos'altro di mezzo Adesso un po' di sicuro Ma per me c'è cos'altro di me c'è cos'altro di mezzo Ma per me c'è cos'altro di mezzo Ma per me c'è cos'altro di mezzo Oltre te Ma per me c'è cos'altro di mezzo Ma per me c'è cos'altro di mezzo Ma ora non useremo le armi Credo Questo gioco è sempre molto imprevedibile Eh E dov'è sto posto in cui dobbiamo pescare Che è da 5 minuti che stanno girando Per me qua succede qualcosa Stammo a vedere E cosa dovremmo fare Scusate Scusate Non è vero, non è vero. Ma che cazzo? Ah, ecco infatti, altro che pescare. Qua si parlava di rubare il treno. Sapevo io che c'era... c'era qualcosa sotto. Eh, forse è facile. Quanto vedo questo treno, santo cielo. Perfetto. Te sono una bella botta in testa questo. E tu vuoi le cose comode? Ma io vi ho liberato. Dai. Infatti è lentissimo. No. Io non l'ho ammazzato tanto giù dal treno, praticamente. Ti potrei sparare comunque, non per dire, ma vabbè. Non lo so. Come on. Sei sicuro? Non so come si gioca nei picchiari. Non lo so fare. Si vede un casino che non so fare. Ma lo so fare a picchiare, io non ci capisco niente. Paglio, il tuo gioco ti fa picchiare una volta ogni morte di papa. E dopo ti dimentichi un po' le meccaniche. Perparare come era già il tasto, non mi ricordo più. Vabbè. Comunque. Dov'è che ci fa ricominciare? Speriamo troppo lontano. Ah, vabbè allora. C'è scritto? Come si fa? Vediamo un attimo. C'è il modo. Impostazioni. Comandi. Vediamo un po' se me lo dice. Come. Non intendevo questi comandi però io. Tendevo gli altri. Niente. Zero. Zero di zero. Vabbè. Non adorare. Mi arrangerò alla meglio. Non lo so. Non lo so. Non lo so. E' la madonnina. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Bene. Anche se io ho preso un bel po' di botte. Ma proprio un bel po'. Minchia sono nero. Gli occhi neri. Eh, portiamo da lo sceriffo. Allora adesso devo mangiare un po' perché sennò qua mi sa che muoio. Andiamo. Ma i nostri amici lo soffiti? Ecco. No, non gli altri Anderson. Eccoli. Credo. No. No. testo ecco perchè non avevamo attaccare rose queste cose qua anche se io ho ridi no a casa c'è scatta nader b amoli in disporre steve west Va bene Comunque devo dire che C'è Questi viaggi Lunghi, abbastanza lunghi Perché durano dai 5 ai 4 minuti Così, 4-5 minuti in base C'è Spezzano il gioco In una maniera colossale C'è veramente Non so E' arte, quello che volete Però uno Perde l'azione Non so, non è di divertimento Però Insomma, c'è una cosa che non va Troppi Troppi punti morti Ovviamente sono pareri soggettivi Rigorosamente soggettivi Ok, we're gonna stop just ahead on the right outside the sheriff's office Dov'è, dov'è Ah, è qua Sì, ma Sto cavolo di cavallo Ma perché va addosso Spostati Mamma mia Dai Sta pure cagando il cavallo Mentre Suadiviamo a Anderson Ah, eccolo, sono finiti Sì, è un po' di gioco So, uh, about my friend here Il tuo amico amico è libero di andare, ma non più problemi da te, partner. Mi prometto, questo è tutto un grande scopo. Ma io voglio ringraziare a te, dal l'inizio del mio cuore. Mi piacerebbe apprezzare questo. Mr. McIntosh, è stato un piacere davvero un piacere. I più buoni cittadini di Rhodes, ci ringraziamoci. Beh, siamo un po' orgogliosi di essere qui. E rendere il tuo amico comportamento. Abbiamo abbastanza problemi da alcune delle persone, vecchi, che hanno scoperto per la città e perdono loro dignità. Cosa scopo. Voi, ora. Io prendo questo ragazzo in alto e in alto. Voi tornare a vedere un po' presto, scusami, ragazzi. Bé, potremmo essere rumori. È vero che hai visto parlare con il pennellope Braithwaite? Non ti ringrazio di te abbastanza. O dove hai venuto? A presto. E dove sei? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Greys, and Braithwaite. Interessant. Two old plantation houses. Falling out. Rebel gold. Marrying cousins. Not marrying them. That's Jose. You start poking around. See what you can find out about that. I have missed you boys. I've heard about bounties. There's been a price on my head for 13 years. It'll take a month and a month down here, and it seems like we can have a little sport. Well, they're good bounties. Where you hear this? Some fellas I met at a camp near the state line said there was talk of it in bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents of some sort. Super agents. I don't want to meet one. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. Allora... Allora, stiamo accompagnando dove abita penso lì. In quel punto lì. Ok. So, these two plantation families. Arthur, you start sniffing around the Greys, see what the story is there. Yeah, I passed by it earlier with our friend Archibald. Good. Hosea, you see what you can find out about these breakways. All right. Thank you Arthur. bellissima, proprio pesca andiamo a pescare ragazzi, andiamo andiamo a pescare, andiamo a pescare che possiamo rifiutare ma conoscendoci è difficile che saremo tranquilli per un po' eh però non sa mai e i cavalli che arrivano però strigliamo, lo fa schifo sto cavallo, poveretto andiamo pure a pescare come ancora un po' ma santo cielo walking simulator anzi orsi simulator vai tranquillo te, vai tranquillo trelani owes everyone for something but his information is good plus we are now ingratiated with the local law I'd say it was worthwhile diversion all around cosa fai? santo cielo andiamo a pescare aventato verso il carro non manca molto bene ameno ameno ma ma acqua passata torneranno secondo me torneranno oh siamo arrivati auguri andiamo per di qua verso il sentiero verso il sentiero che ci porterà a pescare finalmente dopo quanto mi è timidi si può essere dove le vedi le barche? ah ecco trovate oddio non lo so non so neanche di chi sono queste barche sinceramente ok questo sembra come una fine vessel ok come on arthur let's get her in the water no no ho un buon sentimento di pescare qui si sono sono un'incredibile allora qui qui lo mi 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 non se ti te che tu non ti si si pi devo pure guidare la nave, c'è la barca oggi veramente stiamo girando come dei pazzi note, esca da lago ok 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 ci sono sono buoni per titolari come bluogel e roc bass ma dovrebbe essere davvero fortunato di trovare una stersia con uno Lurs è bene, allora hai detto il esperto, Arthur lasciamoci manteniamo la lura lentamente nella acqua così che sembra come un piccolo pezzo chiedendo di essere comitato come se è scofato a boccaro un pezzo? vabbè è stato molto lento dai uno l'ho preso dai, è buono cos'è? due chili in boccadone teniamolo vediamo se ci appena un altro dai dai che ci ha fatto dai 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 che l'ho quasi preso questo è bello tosto secondo me invece è una merdina sicuramente dai dai ma che cavolo cos'è? andiamo? vabbè vabbè peggio di prima però ragazzi non per dire ma proprio c'è dai Sì, abbiamo avuto un banquettino questa mattina, fino a Coppa e scopriva il lotto. Tu non avevi mai controllo di questo uomo. Ah, sì, è un po' di spirito, però. Non avevo mai perduto il papà in lui, fino alla fine. Sì, mi ricordo di noi dicendo che Blackwater era il più oltre l'esterno che abbiamo mai avuto, come un gruppo, dicendo. Mi sembra più che proviamo ad andare l'esterno, il più oltre l'esterno che abbiamo finito. No, 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 no. No, 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 no. Per sicotrota dolomievu. Teniamolo. Ma quanto dura sta cosa della pescare? Due ore? No, sono serio. C'è. Allunga la stanca, è andare a pescare. Un altro preso, bene. Ma sono esperto. Bocca l'un altro. Ma quindi? Basta. Basta che sta a ritornare estremamente noioso. Ce l'ho potuto andare indietro. Allora andiamo al campo, però i cavalli stanno là, cioè. I cavalli infatti. Soprano a stare di ritorno. Forse è meglio che non cantate, ragazzi. Non per dirvi che siete bravi, ma... Insomma. Siete abbastanza pessimi. Vabbè. Loro cantano, loro ci credono. Questo è l'importante. Io ti devo cambiare i miei vestiti, perché è troppo caldo. Non manca tanto da riva, ragazzi. Dicevano. Sì, finché devo guidare io, cioè, devo rimare io. Non manca tanto. Solo due ore. C'è anche la stamina da controllare, da fermarsi. Ci vuole mai vedere, cioè, non è che è appunto così veloce, eh. E' anche abbastanza rito, se devo essere sincero. C'è zitti, è mo' di testa, raga, fra poco. Dovrebbe essere qua l'accampamento. Forse l'idea facciamo, eh. Forse l'idea possiamo fare. Oh, finalmente. Che fatica. Che poi adesso sto, tipo, remando dentro la sabbia. E ci guardate un attimo. Fantastico. Ce l'abbiamo fatta, eh. Ce l'abbiamo fatta. Allora. E una è andata. Che fatica. subito mario mario l'opso zazette venti volte va bene ragazzi e dovrebbe essere finita la missione se non erro si è finita io vi ringrazio e ci vediamo ad un prossimo episodio ciao ragazzi